Ognuno di noi ha una sua distanza emotiva, una sua distanza fisica. Che cos'è questa distanza fisica in psicologia? Si chiama distanza prossemica, cioè la capacità di stare più o meno vicini davanti all'altro. Perché oggi ne parlo? Perché faccio questo video? Perché stamattina, poco fa, ho visto una persona e mi ha molto colpito una cosa. Cioè che quando lei è a casa mi manda delle mail che sono infinite e intrise di sentimenti, di emozioni, di pensieri, di riflessioni, di dolore, di stupore, di gioia, sono ricchissime. Lei pensa che possa fare la poetessa, purtroppo non lo fa. E poi invece quando viene qua, al suo corpo, non a lei, al suo corpo succede qualcosa di agghiacciante per lei e di imbarazzante per me. Diciamo che imbarazzante, anche se in realtà non mi genera più imbarazzo. Una volta l'avrebbe fatto, oggi ho 50 anni, ho lavorato un po' su di me e ho capito di non essere così tanto cattivo come sento e così tanto potente, soprattutto come penso. Ma semplicemente ho imparato a non confondere le mie cose con le cose altrui. Cioè lei si ghiaccia, si paralizza davanti all'altro. Allora ieri, l'ora prima stavo parlando e ho detto ieri perché anche ieri è successa una cosa simile e mi ha avuto in mente una cosa. Io ho fatto tre anni, quattro anni di elettricista, ho studiato l'elettricista, questo grande liceo eccezionale di Pavia, e ho studiato i fine corsa e le CPU, cioè quelle macchinette che si attaccano ai cancelli, anche quelle macchinette che si attaccano ai cancelli, agli ascensori, che determinano l'apertura e la chiusura automatica dei cancelli, degli ascensori eccetera eccetera. Ecco, niente, io ho studiato per fare quegli impianti lì e non mi sono mai stati molto utili, cioè nel senso non ho mai trovato una grande utilità mentre le studiavo. Oggi invece che ho 50 anni trovo un sacco di metafore fisiche, perché cerco sempre di ragionare in termini fisici concreti, perché? Perché l'essere umano capisce meglio quando vede le cose e impazzisce quando non le vede. La spunta blu e la non risposta, cioè se lo scrivo a qualcuno, se io leggo il messaggio ma non rispondo, è facile che una persona che non ha la costanza dell'oggetto, cioè non ha la capacità di immaginarsi le cose concrete, farà molta fatica a gestire la mia spunta blu e la mia non risposta. Perché? Perché ha bisogno di cose concrete. Allora ho detto, sai che c'è? Cerco di trovare delle metafore in natura e cerco di tramutarle in psicologico, perché tanto l'astratto è concreto e il concreto è astratto. Il macro, cioè i movimenti della società, politici, storici, tutti i movimenti storici diventano, sono le stesse cose che succedono dentro di noi, nei singoli individui, e al contempo ciò che succede dentro di noi, cioè le parti che confliggono, le vediamo anche fuori. Cioè noi creiamo il mondo a nostra immagine e somiglianza, per cui se dentro un conflitto creerò un conflitto anche esterno, se dentro ho l'armonia creerò dove posso ho armonia, o dove trovo conflitto me ne vado, se ho l'armonia. Se invece sono innamorato del litigio lo creerò. Bene, torniamo alla distanza prossemica e al fatto che ho trovato questa metafora, questa similitudine in realtà, non è una metafora, nei fine corsa. Cosa sono i fine corsa? Sono quei sensori che hanno tutti i cancelli automatici, che fanno sì che qualcosa si apra o si chiuda in automatico. Questa cosa qua si chiama fine corsa, cioè fine corsa sono dei sensori alla fine del cancello. Ecco, molto spesso, e io sono uno tra questi, in passato, oggi sto molto meglio perché imparare a stare male in un corpo molle, cioè non opporre resistenza a qualcosa che è inevitabile, mi ha salvato la vita, molte persone però lo sanno e anche io stesso molto spesso mi perdo. Ecco, se provo a pensare a cosa succedeva al mio corpo quando entravo in relazione con qualcuno che non avevo scelto, che subivo o che magari mi trasmetteva una sensazione un po' scomoda, il mio corpo faceva quello che fanno le porte di Star Trek. Si chiudono, cioè quando passi si chiudono subito. Ecco, perfetto, a me succedeva quella cosa. Cosa vuol dire? Che io fuori dalla relazione, adesso mi allontano apposta, spero che si senta, fuori dalla relazione, cioè quando mi allontano dalla persona sento, sento e penso, quando mi avvicino, quando qualcuno, anzi, quando qualcuno si avvicina, cioè invade il mio territorio, siamo animali, non dimentichiamacelo, quando qualcuno invade il mio territorio succede una cosa molto scomoda, che i miei sentimenti si contraggono. Mi contraggo fisicamente e smetto di sentire e inizio a pensare. Quindi cosa fa la persona che ho appena visto? Quando è con me, o meglio, quando è nella relazione, con me stiamo imparando a fare a... Sto cercando di insegnare al suo corpo che io non sono un pitbull, lei lo sa, ma il suo corpo no, quindi devo insegnare al suo corpo che io non sono minaccioso. Cosa succede? Che lei, fuori dalla porta, sente. Io ho una sala d'aspetto qua. Fuori dalla sala d'aspetto, lei sente e scrive. Quando entra qua dentro, puf, magia, sparisce tutto. A me succedeva la stessa cosa quando studiavo. Quando studiavo a casa, sapevo. Andavo in classe, tuf, magia, spariva tutto. A condizione, invece, questa cosa non succedeva se avevo un professore particolarmente gentile e attento alle mie dinamiche emotive. Perché succede questa cosa? Perché siamo animali. E gli animali si differenziano in base agli stili di difesa, cioè come si difendono. Gli animali si difendono, noi, animali, noi, ci difendiamo in tre modalità. Attacco, paralisi e difesa. Mio fratello attacca, fa il manager, non è un giudizio, quindi è una persona più proattiva, cioè sente di meno, si fa meno menata di me, non pensa al senso della vita in continuazione, per fortuna, beato lui, non l'ha scelto, non è peggioro o migliore, lui funziona così. Mia mamma fugge, è un coniglio, non lo fa apposto, non è che è un coniglio che è un'offesa, cioè il suo sistema di difesa la fa fuggire. Il mio sistema di difesa è quello di un riccio. Mi paralizzo, balbettavo. Cosa succede? Il mio corpo si stringe tutto e si paralizza. Ma mi paralizzo sempre o mi paralizzo quando mi sento minacciato? Cosa fa un riccio? Si paralizza sempre o si paralizza quando si sente minacciato? Si paralizza quando si sente minacciato, anche se agli occhi del predatore, agli occhi della persona, quello che sta succedendo non è minaccioso. Se io sono un riccio e sto camminando vicino a lui, io non lo sto toccando, non voglio fargli niente, magari voglio soltanto accarezzarlo e vado lì con fare amorevole, ma lui si paralizza. Dopo un po' mi inizia a lasciarsi andare. Ecco, la stessa cosa la vedo nelle mie tartarughe. Ho un sacco di tartarughe che continuano ad accoppiarsi e quindi prolificano. E quindi ho, non so se sono vietate le tartarughe, penso di sì, beh, niente, ho delle tartarughe. Ne ho due e adesso ne ho sette, otto. Sono molto piccoline, cioè, o meglio, sono grosse, ma quelle piccoline poi me le trovo in giro e quando taglio l'erba il rischio è di falciarle, quindi devo starci attento. Va bene, cosa fa la tartaruga? Quando la prendo, in automatico va tutta dentro, cioè, si ritira tutta. Anche se io voglio spostarla dal tagliaerba, quindi voglio salvarla, e non vado lì a prenderla a calci, la prendo con amore, perché sono grossi così, quelle appena nate, loro si ritirano tutte. Quindi cosa fanno loro? Facciamo finta che pensino, smettono di sentire, non sentono più le proprie emozioni, perché sono in allerta. Essendo in allerta, tra percepisco il mondo e scrivo poesie, faccio acquarelli e mi salvo la vita, madre natura vuole che ci salviamo la vita. Per questo stesso motivo, noi maschietti soffriamo di impotenza sessuale o di eiaculazione precoce. Cosa succede? Che iniziamo a sentire l'altro una minaccia, noi ci sentiamo minacciati e smettiamo di funzionare meccanicamente, perché tutto il cervello va all'interno del corpo. Quindi cosa succede? Che le persone particolarmente introverse, cioè girate all'interno, sensibili, perché se sei introverso sei anche sensibile, non puoi dividerla questa cosa, ed empatico, cosa vuol dire? Che le persone empatiche ed introverse hanno più neuroni a specchio, cioè hanno più neuroni che sono costruiti per il sentire. Cosa succede? Che quel corpo di Giulia, facevo finta, farà delle cose. Cosa fa il suo corpo? Si tira dentro tutto il sangue, quindi avrà mal di testa la sera perché inizierà a pensare, si irrigidisce, stingerà la mandibola, le mani e i piedi diventeranno freddi, si contrae lo stomaco e verrà la gastrite, e verrà prima un po' di acidità, prima un po' di tensione. Sento una robina qui. Poi un po' di acidità, poi una bella gastrite, poi in futuro un bel tumore allo stomaco. In automatico, anche siccome l'intestino è un tubo molto lungo, interamente costituito da cellule emotive, cioè il tubo che porta, le cellule che compongono quel tubo, non sono cellule così, sono cellule emotive. Cosa vuol dire? Che sentono le emozioni. Ecco perché un bambino si fa la cacca addosso quando ha paura, e non soltanto i bambini, o noi, o una persona particolarmente sensibile, deve stare particolarmente attenta al suo intestino. Perché? Perché il suo intestino è già estremamente sollecitato, sollecitato, sollecitato dalla vita, l'amore, la rabbia, la gioia, il capo, il dovere, il ritardo, il traffico, la multa, l'aumento, il professore, tutta sta roba qui, va a finire nell'intestino, che va a finire, cioè l'intestino si contrae insieme al cervello. Abbiamo un cervello qua, che per pensare si contrae, abbiamo sotto un intestino che si contrae per gestire le emozioni. Cosa succede? Niente, che se faccio così per tutto il giorno, alla fine avrò male alle mani. Però se ho male alle mani, che se ne frega. Se ho male all'intestino, vado in disbiosi, quindi mal di stomaco, mal di intestino, eccetera, eccetera, sto malissimo e non capisco come mai. L'altro giorno ho visto una persona, in ospedale purtroppo, mi sono una persona che mi voglio molto bene, che è in disbiosi tremenda, perché purtroppo è una malattia molto complessa, che ha un'infiammazione complessissima del suo intestino. E i medici dicono, eh signora, lei è soltanto depressa, lei è soltanto depressa. E il problema è che non può non essere depressa. Perché? Perché l'intestino è il produttore delle emozioni positive, cioè del nostro benessere emotivo. Vuol dire che se io sono in disbiosi, voi provate a pensare quando avete una bella dissenteria, siete felici? Al di là del dolore, tolto il dolore, il vostro umore crolla? Sì, perché non può non crollare, perché la nostra serotonina è sintetizzata nell'intestino. Quindi in automatico si contrae tutto l'intestino, va in disbiosi, lei diventa depressa, e il bravo medico, o psichiatri dice, ma lei è soltanto depressa. E no! Aspetta, sono triste, perché la mia vita non mi piace, e quindi vado in disbiosi, o ho una disbiosi io, perché ho un'infiammazione cronica del mio intestino, e quindi sono depressa. Sono due cose totalmente diverse, dipende da dove la prendo. è diverso dire vado da Milano a Roma, e da Roma a Milano. Trovo cose diverse prima. Va bene, torniamo alla distanza prossimica, che però è sempre la stessa cosa. se io prendo una persona particolarmente introverso, girata all'interno, sensibile, che ha come sistema di difesa il mio, il riccio, essere un riccio, porto tutto all'interno, la presenza prossima di un metro, un metro e mezzo di una persona, diventerà una minaccia. Cosa vuol dire? Che se io ho un bimbo, ho mio figlio introverso, o se io sono introverso e un po' timido, vuol dire che quella persona, quando qualcuno gli si avvicina, lui smette di sentire, di essere in contatto con se stesso, cioè non si sente più al sicuro, e va in un stato di minaccia. Se va in un stato di minaccia, lui non è in grado di ascoltare cosa sente, sentirà soltanto paura, quella che noi definiamo ansia, quella non è ansia. Il mio cane, se entra in casa uno sconosciuto, non è ansioso, ha paura, e come difesa, sono due cani, uno scemo e uno intelligente, uno scemo nel senso che è più superficiale, è un po' più allegro, ed è meno traumatizzato. Questo qua continua a bagliare e saltella, l'altro va lontano, da lontano, si paralizza e abbaia. Perché? Perché sente che è minacciato, quindi si protegge, va lontano, ma al contempo cerca di fare quello che può, cioè cerca di proteggere, di difendere il suo territorio. Il cane è più intelligente di me, cioè perché fa qualche cosa di più utile a quello che sta succedendo. il corpo di Goffredo, il corpo di molte persone che vedo, poi racconterò il corpo di una persona che ho visto tanti anni fa, che mi ha colpito tantissimo, se mi ricordo, se non apro l'ennesima parentesi, e se mi ricordo di chiuderle tutte, cosa fa quel corpo lì? Cosa fa il mio corpo? Si paralizza. Quindi parlare per una persona emotiva, nella relazione vera, reale, è molto più difficile, è molto molto più difficile, perché non riesce ad accedere a delle cose. Cosa succede al corpo di Giulia, diamo questo nome, quando è qua, che i primi colloqui, lei non parla, poi va a casa a porre di disturbarmi, non vuole scrivermi, io dico, legittimati a scrivermi. Io per esempio dico, quando vedo che una persona è logorroica, è sempre in dissenteria emotiva, e non sa stare zitta, allora le dirò mai, scrivimi quando vuoi, perché altrimenti mi trovo il telefono intasato, dei suoi messaggi. E invece sono alcune persone, queste persone che hanno il terrore di disturbare, che camminano sulle uova tutto il giorno, perché pensano di occupare chissà che spazio, e le vedi perché continuano a dire scusa, in tutto, perché sentono sempre in colpa, cosa succede? Si ritirano, si infiammano, vanno in apnea, hanno gli incubi, dormiranno poco, dormiranno magari per collasso, e invece poi a un certo punto si sveglieranno di notte, avranno un sonno più leggero, perché sono più in allerta di altri cani, non è una battuta, non volevo essere offensivo, cioè se io sono un cane piccolino, un chihuahua, avrà un sonno meno profondo di un alano, perché? Perché il chihuahua deve salvare, ha meno possibilità di difendersi rispetto a un alano, io, il fatto che io sia alto un metro e un metro e ottanta, e vado in palestra, non conta il fisico, conta la struttura emotiva, io sono un riccio, qui dentro mi sento al sicuro, e mi sento padrone di quello che faccio, perché ho una buona consapevolezza emotiva, e sto bene nella relazione, fuori da qui non sono il dottor bordese, sono un bambino di 4 anni spaventato dal mondo, poi per fortuna oggi le cose vanno molto meglio, ma se voglio essere veramente onesto, rispetto alle mie strutture emotive, non conta quello che io so, conta quello che io sento, e quello che riesco a mettere in atto, chi mi scrive, quando una persona, questa persona mi scrive fiumi di lettere, e si contiene, perché non vuole disturbarmi, quindi se mi scrive il Po di lettere, il Po del fiume Po, in realtà lei vorrebbe scrivermi il Gange, e forse vorrebbe scrivermi tutto l'oceano Pacifico, o l'Indiano, penso che sia più grande, ma lui lo fa per disturbarmi, e se mi scrivesse tutto il fiume indiano, tutto l'oceano indiano, non basterebbe nemmeno, sarebbe ancora di più, perché? Perché è infinito quello che sente, non ha un confine, e allora qual è il suo problema? Qual è il suo compito? Qual è la sua terapia? È cognitiva o corporea? Visto che lei già pensa tanto, ed è bloccata tra il sentire e il pensare, quale sarà la sua terapia? Iniziare a farle sentire che lei non è minacciata, cioè io divento il suo allenamento, cioè lei si gioca a sbagliare con me, a sentirsi minacciata con me, qui in relazione con me, perché? Perché se lei impara che la sua statistica non è reale, cioè che il mondo non è minaccioso come lei lo percepisce, piano piano, esponendosi a me, piano piano, magari andiamo al bar, adesso andiamo al bar in un corpo molle, o il bar a 20 metri, e tu cerca di restare molle quando senti che c'è il tizio un po' briaco, la barista un po' nervosa, il tizio che gioca con le macchinette, tu resta in un corpo molle, mentre chiedi il caffè. Quando senti che ti contrai, resta in un corpo molle, quindi facciamo questo allenamento. Quindi qual è il suo allenamento? Non è capire, lei già lo sa, e lei dice perché io sono diversa, perché io sono sbagliata, perché il mondo è cattivo, io sono buona, perché non basta mai quello che do, perché ho sempre la sensazione di disturbare, perché ho sempre la sensazione di essere in colpa, perché è un problema proprio di percepito, visto che non possiamo cambiare i genitori del passato, dobbiamo lavorare con quello che abbiamo. Quindi cosa fa questo corpo? Si contrae tutto. Devo insegnare al corpo di Giulia che il mondo non è una minaccia come lei lo percepisce, e lei non è un elemento di disturbo come lei pensa di esserlo, o sente, tolgo il pensa, sente, barra, barra, barrato, sente di essere. Cosa devo fare con Giulia? l'alleno a... Guarda Giulia, adesso vengo, mi avvicino. Il colloquio di oggi lo facciamo con 10 cm in più. E piano piano mi avvicino, mi avvicino, mi avvicino, lentamente, in modo che lei lo sappia, io glielo dico prima, e dico, quando senti che vai in ansia, perché mi avvicino troppo, venga da respiro, resta in un corpo molle. Cioè, visto che non puoi fermarmi, e non puoi fermare i tuoi pensieri, se rilassi il tuo corpo in automatico, dopo pochi minuti, pochi secondi in realtà, e più sei bravo ad allenarti, più è immediata questa cosa, il tuo corpo si rilassa. Questa cosa, per esempio, la faccio tantissimo con le persone abusate. Purtroppo, la percentuale di persone, donne e uomini abusati, è molto, ma molto, ma molto, ma molto, più alta di quella che si percepisce, e di quella che si sa. E molte persone sono state abusate, non lo sanno nemmeno, o hanno la sensazione, o hanno un vago ricordo, oppure pensano che abuso è soltanto la penetrazione. Non è soltanto la penetrazione. Uno zio, un papà che gioca, in modo seduttivo, con le nostre parti erotiche, erogene, è abuso. Cioè, la nostra sessualità, verrà contaminata, è cambiata. Cosa succederà? Che io sarò molto disinibita, o totalmente bloccata. Oppure sarò molto disinibita, sessualmente, ma sarò totalmente bloccata affettivamente. Cioè, non mi fido, mi concedo, ma non mi apro emotivamente a nessuno. Oppure, fine corsa, chiudo tutto, si cancellano, si chiudono tutti i cancelli, e io non mi lascio mai andare. E non resti che spesso sono così. Perché? Perché sono intrappolate nel proprio corpo, nella propria paura, e hanno creato un castello che le protegge, ma dove non entra nessuno, e dal quale loro non escono. non soltanto le ragazze anoressiche. Molte persone. Quindi, cosa devo fare con il corpo di Giulia? Creare una coalizione con lei, prima di tutto, e dire, guarda Giulia, io mi accorgo di questa cosa. Tu la senti vera? Sì, sì, è vera. Ok, perché mi accorgo che se tu mi scrivi miliardi di lettere a casa, e qui fai fatica a dirmi buongiorno, o ciao all'inizio del colloquio, o se ti indue, c'è qualcuno che ti ha rubato il telefono a casa, a chi mi scrive, battute che faccio spesso a queste persone, oppure, siete in due lì dentro, e tu vorresti essere quella che è a casa, anche in relazione con me. Perfetto, ci avviciniamo un po' di più a quella cosa? Come facciamo? Devo chiederti il permesso. Provate a pensare a dover fare l'amore con una persona che è stata abusata. Dovete chiederti il permesso, e non vuol dire che se voi volete, lei vuole, magari vuole, ma il suo corpo non vuole. Il mio corpo vuole ballare, ma non balla. Il mio corpo voleva suonare la batteria, ma non suonava la batteria, cioè mi irrigidivo, facevo il compitino. Io ho qua lo studio con tanti atleti che hanno un potenziale enorme, ma non riescono a scendere in campo, oppure scendono in campo benissimo in allenamento, ma fanno schifo durante la partita, oppure sanno benissimo tutta la teoria, ma davanti al professore si bloccano. È la stessa cosa. Cosa dobbiamo fare? Insegnare al nostro corpo che la paura non è reale. È reale qui, è reale in tutto il corpo, ma non è vera, non è reale. Stanno buttando le bottiglie di là, magari si sente. Vabbè, perché è il bar, c'è il bar dietro, perché c'è il magazzino del bar dove buttano le bottiglie, ogni tanto si sente il rumore. Va bene. Quindi cosa dobbiamo fare? Questa cosa qua. Adesso provo, apro la parentesi che prima dicevo, della persona che mi ha colpito. È una persona che ho visto in comunità. Ho lavorato con i minori e i minori molto spesso hanno detto delle storie in comunità, delle storie orribili di violenza, di abusi, di allontanamento delle famiglie, magari famiglie abusanti, ma che loro amano. Sono un casino. Insomma, se seguo questo ragazzo, parlo di tanti anni fa, lui aveva 12-13 anni, adesso magari mi commuovo, ero molto più giovane, avevo 12 anni fa, 13 anni fa, adesso ne ho 50, avrò avuto 37-38 anni e sicuramente ero molto meno preparato e molto meno a mio agio con me stesso, con le mie emozioni. Però, la tensione emotiva di Paolo la conoscevo, non in quella dimensione, ma sapevo cosa voleva dire il rifiuto, l'abbandono, la ricerca d'affetto, il corpo che si contrae, la testa che va, insomma, questo sentirsi posseduti da emozioni, da pensieri. Insomma, questo ragazzo qua subisce un tradimento, diciamo così, nel senso che la famiglia non lo vuole più, il tribunale gli dà il divieto di vedere la famiglia, lui però gli mancava la mamma, insomma, un casino, un casino, la famiglia affidataria che doveva venire in realtà era stato un disastro, insomma, veramente, un ragazzo incasinatissimo. cosa succede? Che questo ragazzo a Natale vede tutti i suoi compagni che vanno a casa e lui no. E dentro di lui succede l'inferno perché dice credo io, non lo diceva, lo faceva, cioè lui spaccava cose, è iniziato a spaccare tutto, sembrava posseduto e alcuni miei colleghi adesso andiamo a dire ah lo puniamo, perché non si fa, non si può, non è che lo sceglie lui, cioè il suo corpo è posseduto da un demone, voglio vedere te al posto suo, cioè il mio cane quando mi morde perché lo porto da veterinario non mi morde, ma facciamo finta che mi morda, non è che è cattivo il mio cane, si difende, come può, non lo fa, non è che è posseduto dal suo istinto, non lo fa apposta. Allora aspetta, vado io, vado io, questo ragazzo qua e allora io mi metto sulla porta, intanto spaccava cose, non andava a quel paese, mi odiava, mi andava, insomma, ci insultava a tutti, ma in quel tutto c'era dentro Dio, la natura, la vita, la mamma, il papà, io, lo zio, il cugino, il capo della comunità, c'era dentro tutti, il babbo natale, il concetto di natale, il concetto di... c'era dentro tutto. Istintivamente sentiva la voglia di andare lì a massacrarlo di botte, cioè di calmarlo, perché intanto mi insultava, il mio ego si sentiva ferito, però ho detto fermo, taci, taci, stai fermo. Così sentivo anche la voglia di andare via. Questa cosa, per esempio, la sentono tantissimi genitori di bambini, i genitori separati. che si trova un bambino che lotta tra papà e la mamma. Quindi i genitori si beccano magari la rabbia del bambino che è caricato dall'altro genitore, che dice la mamma mi ha detto ok, oppure tu mi hai abbandonato, mi hai lasciato, ma in realtà non è vero, ma il bambino non è in grado di capirlo. Sa soltanto che quello che sta succedendo è profondamente ingiusto. Insomma, io volevo andare via, una parte di me voleva andare via e dice basta, ma so stufo, è Natale, cavolo vado a casa. Un'altra parte voleva contenerlo e massacrarlo perché il mio ego era ferito. Sto fermo. Sto fermo in un corpo molle. Mi assento da me, insultami, io sono il tuo water, fai tutto qua dentro, non importa e non chiudo la tavoletta. Io, Goffredo, non chiudo la tavoletta. Sto fermo. Sto fermo e respiro. Cosa è successo? Che piano piano questo ragazzo scaricandosi, io stavo fermo, non vuol dire che mi piacesse, ma qualunque azione diversa sarebbe stata peggiore, cioè se mi fosse andato avrei confermato il fatto che lui era abbandonabile, non dovevo andarmene. Se mi fosse avvicinato avrei dimostrato il suo corpo, il suo corpo avrebbe risposto con una minaccia, cioè avrebbe risposto a una minaccia, ero io. Per cui ho detto aspetta un attimo, sto fermo. Piano piano, mettiamoci il nome Paolo, vedevo che Paolo si calmava. Paolo posso avvicinarmi? No, vattene, 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 ti odio, ti odio. Ok, va bene, stai tranquillo, Paolo io sto qua, dimmi quello che vuoi, io sto qua. Insomma, sta scenetta è durata quasi due ore. Infine, giuro, ero esausto. Piano piano però vedevo che Paolo mi insultava, però guardava se veramente me ne andava, se veramente ero offeso. A me in realtà spiaceva per Paolo molto, moltissimo, anche perché sapevo tutta la sua storia, sapevo anche cose che lui non sapeva di sapere. Per cui mi avvicinavo, mi dice Paolo posso avvicinarmi? No, vattene, però in realtà mi stava dicendo dai vieni un po', però piano, facci piano. Piano piano mi sono avvicinato. Insomma, questo giochino di 3-4 metri è durato ore, veramente un paio, letteralmente un paio d'ore, cioè 120 minuti, sono tanti, tantissimi. Mi sono avvicinato, ho detto Paolo posso toccarti? No, non mi toccare! piano piano, ho detto Paolo posso toccarti? Piano? E ho messo la mano sulla spalla, mi sembra, sul braccio. Piano piano l'ho, sono riuscito ad abbracciarlo, ovviamente lui era rigido, immobile, perché lui non doveva lasciarsi andare, non doveva ricevere nessuna forma di affetto, ho detto dai Paolo, io ti abbraccio, mi puoi abbracciare quando vuoi. Piano piano, Paolo, il corpo, non Paolo, il corpo di Paolo si è rilassato ed è scoppiato a piangere in un pianto disperato, io pianto con lui, mi sono commosso anch'io, poi mi ha abbracciato anche lui e mi ha chiesto scusa per un mese e mezzo praticamente, non l'abbiamo, mi ha chiesto scusa per tutto il giorno, poi però il giorno dopo cosa è successo? Abbiamo chiuso lì, ho fatto qualche battuta, abbiamo un po' sdarmatizzato, ho preso in giro il diavolo che c'era a lui, ma mica Paolo dentro di te c'è un diavolo mica da ridere, cazzo oggi era potente quel diavolo lì, quindi abbiamo, ho riso del suo, non di lui, del suo diavolo, perché? Perché doveva sentire che quella parte non è lui, ma è una parte di lui, cosa molto diversa e tutti noi abbiamo una parte di noi, una parte depresa, una parte maniacale, una parte depresa, una parte incazzata, una parte paranoica, una parte suicidiare, una parte che ha voglia di vivere, abbiamo di tutto. Allora, cosa è successo poi, cosa bella cosa è successo? È stata il giorno dopo. Il giorno dopo è, negazione totale, cioè, non negazione, rimozione di quello che era successo, cioè Paolo si era lasciato andare, poi volete vedere, ho fatto un video su Fonzi, Fonzi è un personaggio di un film Happy Days, vabbè, perché? perché aveva pure di lasciarsi andare, aveva pure le proprie emozioni. Paolo lì era stato costretto da una forza interiore, dalla sua disperazione, ha tolto tutte le barriere cognitive, quindi si è lasciato andare e ovviamente io sapevo che Paolo non voleva parlarne, data bene così, è diventato il nostro segreto, il nostro segreto ironico, per cui Paolo sapeva che aveva visto il suo diavolo, lui sapeva che l'aveva visto ed è diventato un po' il nostro gioco, vabbè, niente, quindi Paolo oggi sta bene, gira il mondo, fa un sacco di cose belle, è grande, ha 26-27 anni, credo, sta proprio bene, è una bellissima persona che ha ripreso in mano tutta la sua vita, va bene, questa roba qui è la distanza prossemica, cosa vuol dire? che è quella distanza che si manifesta per esempio in ascensore, io in ascensore prima mi imbarazzavo, non se lo do solo, intanto non c'è via d'uscita, quindi una persona più timorosa, se tu gli chiudi tutte le porte è un casino, ecco perché le persone che hanno fobie si mettono al cinema sul corridoio oppure pagano 50 euro in più per avere la percezione di libertà sull'aereo, è la percezione di libertà, non puoi scendere dall'aereo, perché? perché siamo animali, quindi dobbiamo avere una via d'uscita, il mio cane per esempio è stato portato dalla Calabria a Pavia, credo, cioè sicuramente è arrivato dalla Calabria a Pavia, non so cosa abbia vissuto, io so che se io mi frappongo, mi metto tra la porta, tra lui e la porta, il mio cane è molto sereno oggi, mi metto tra lui e la porta e il mio cane non passa, io mi devo aprire la porta, spostarmi, mi dico dai Kira vai, con fare molto morbido, magari mi devo anche abbassare, allora Kira prende e va, poi dopo Kira gira il mondo, fa un sacco di cose in grande libertà, ma quando sente che deve, è costretta a fare qualche cosa, il suo corpo si paralizza, quando io vado a McDrive con i miei figli e devo ordinare, quindi ho una macchina dietro, una macchina davanti e devo parlare, balbetto, statisticamente balbetto 10.000 volte di più di quanto balbetti nella vita ordinaria, perché? Perché devo parlare, cioè io devo dire due Mc, Big Mc, due A, il mio corpo, non io, il mio corpo si paralizza un po', poi ridendoci, poi ridendo della mia balbuzia, quindi aggredisco il problema, qui è il trucco, aggredisco il problema e non lo subisco, cioè passo da Riccio a Pantera, il mio corpo naturalmente Riccio mi paralizza, aspetta, scimmiato di essere una Pantera, aggredisco il problema, due Big Mc, quindi sforzo e dico due Big Mc, in automatico cosa succede? Che il Riccio diventa Pantera in quell'istante, non in modo strutturale e riesco a fare qualcosa che il mio corpo non vorrebbe fare, la stessa cosa l'ho fatta all'inizio per i video, la faccio per telefonare o quando ho paura, cioè chiedo al mio corpo di cambiare animale, c'era un bel telefilm, Manimal si chiamava, c'era questo tizio che era stato, mi ricordo più perché, aveva fatto dei riti voodoo e aveva la possibilità di trasformarsi nell'animale che voleva lui, era un telefilm che mi piaceva tantissimo, forse per questo, perché lui era questo ricercatore, questo antropologo, se lo ricordo male, era il ricercatore che cambiava animali in funzione di quello che serviva, quindi se lui doveva entrare in casa di qualcuno diventava un uccellino che si metteva sulla finestra per ascoltare i discorsi del criminale o diventava una Pantera un cane, insomma quello che era. Ecco, io voglio imitare il tizio di Manimal, strutturalmente sono un riccio, questa è la mia natura, non ho scelto la mia macchina, la subisco, ma posso imparare a usare tutte le marce, istintivamente mi verrà soltanto comodo usare certe marce, dovrò imparare ad usarne altre. La persona, Giulia, Paolo, o chi si voglia è una macchina diversa dalla mia, ma ha un funzionamento simile al mio. Cosa vuol dire? Che devo insegnare al suo corpo ad andare oltre, cioè a non fidarsi del proprio istinto di paura, perché? Perché altrimenti io nella sua testa sono il nonno che abusava di lei, sono il bullo che la picchiava, che lo picchiava, sono il padre che lo picchiava e cinghiate. Ognuno di noi ha avuto qualcuno che ci ha fatto del male, emotivamente e fisicamente o o fisicamente e o sono importanti, fa una grossa differenza e dobbiamo capire che siccome la guerra è finita andate in pace, possiamo andare in pace. Bene, niente. Fammi sapere quali sono le tue guerre, qual è la tua distanza prossemica, fa tutte quelle cose che ti piacciono tanto YouTube, condividi, fa quelle robe lì. Ti ringrazio e ti auguro una buonissima giornata. Grazie, un abbraccio.